Complimenti, ci vuole un bel coraggio per varcare le soglie del casino Carcosa. Potrebbe interessarti un giro di roulette. Sei pronto? Prontissimo. Stai già? Prontissimo e fa tutti i suoni più fastidiosi da sentire in un podcast. Vuoi anche masticare vicino al microfono? No! Ciao Tony. Salve. Grazie per essere con me a parlare di un film che mi ha confusa e frustrata e io direi bullizzata. Ha confuso anche me, senza proprio pietà. Abbiamo guardato Possession del 1981 diretto da Andrei Zularski che potrei confondermi e chiamare Zulenski. Zulenski, sì, è vero. La via di mezzo. È confondibile. Vuoi dire di cosa parla? Sai dire di cosa parla? No, non so di cosa parla. Allora, è difficile da dire perché è cosmico horror per quello che vedi, ma è un po' come Fratello Alba in Fondazione quando dice la canzone sulla caccia non è sulla caccia. Esatto. È la stessa cosa. Apprezzo la citazione. Stiamo guardando Fondazione, non è horror ma fantascienza e ci sta piacendo veramente tantissimo. Sì, dal lettore di quella saga devo dire che... Sì, dai. Io ho letto altre cose di Asimov, non queste in particolare. Neanche gli dèi tu hai letto. Ho letto neanche gli dèi, ho letto molti racconti brevi sui robot. Bellini quelli, sì. Stiamo temporeggiando come l'altra volta per non parlare di Possession. Allora, Possession, onestamente... Allora, tu come ne sei venuta a conoscenza di questo film? È considerato uno dei migliori horror della storia, del cinema mondiale. Ok. È in praticamente tutte le classifiche dei film più scioccanti ever, insieme a Anticristo, Martyrs e... Io sinceramente non sono d'accordo. Non l'ho trovato così scioccante. Forse devi porti in una situazione degli anni 80, del 1981. Era già uscito Salò? Sì, è vero. E anche Arancia Meccanica, mi sa. Anche Arancia Meccanica, sì. Sì, però all'epoca erano ancora molto sensibili la gente. Ancora non avevamo visto una persona... Pensavo stessi per dire una pallottola sputtata. Ancora... Quello è scioccante per quanto è bellissimo. Tutta la saga, l'uno, il due, il tre, il passato... Vabbè... È la più forte che hai. Sì, sì, sì. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che... Cosa stavo dicendo? Che il pubblico degli anni 80 probabilmente era più sensibile. Era un po' più sensibile, probabilmente. Anche Salò è precedente Sospiria? Sì, mi sa di sì. Perché all'uscita... Praticamente Dario Argento si nascondeva fuori dei cinema, dentro una macchina, per andare a vedere la reazione della gente all'uscita da Sospiria. A dove? E uscivano urlando tipo alle persone che facevano la file per la proiezione dopo. Non andare, ci sono le streghe! Paura, paura! E la gente aveva paura fottuta dopo aver visto Sospiri. Io conosco una persona che ha visto Profondo Rosso, Alcino, la Carla, vabbè. Ok, che fortuna! Sì, infatti, assolutamente. E lei mi ha raccontato che dopo aver visto Profondo Rosso, ha dovuto chiamare sua mamma, vieni a prendere al cinema, perché aveva paura di tornare a casa a piedi. E il cinema è a 100 metri da casa sua. Ma tipo alle proiezioni di Sospiria arrivavano le ambulanze, perché la gente si sentiva male. Ok, quindi questo è il punto. We know. La gente forse negli anni Ottanta non era pronta a vedere un rapporto carnale tra una persona e uno strano essere, sì. Non erano pronti probabilmente. Partiamo dalla trama proprio base, base, base. Abbiamo Anna e Mark, interpretati dalla splendida Isabella Gianni e dal magnifico Sam Neill. Sono una coppia in rotta. Hanno un bambino piccolo che si chiama Bob e non riescono più a stare insieme. Lei lo tradisce con questo uomo che si chiama Heinrich. Un tipo anche simpatico. Sì, io sono team Heinrich. Mi piace più Heinrich di Mark. Fatto sta che la loro separazione viene aggravata dal fatto che Anna è entrata in contatto con questa entità cosmica, punto di domanda, che la sta cambiando nel profondo. Lei sta perdendo la fede, sta impazzendo, sta diventando un agente del caos. Sì, tanto che proprio disprezza Mark. Sì. Cioè è arrivato al punto da disprezzarlo. C'è la scena in cui tipo non mi toccare mi fai schifo. Quindi sì, esacerba un po' tutto. Che bella parola, esacerba. Sì, c'è l'indagine. Sì, lui cerca di scoprire chi è il suo amante, lo incontra. Parla anche più volte con la sua mamma. Sì, e prende un sacco di legnate dall'amante di Anna. Lo gonfia a un certo punto. Heinrich sì, è un karate. Gli fa due mosse di karate e yoga. Il karate è mezzo tango, fa un po' un pas de deux per picchiarlo, non lo so. E fatto sta che la situazione diventa sempre più, come dicevi tu, esacerbata, sempre più tesa, sempre più malata. Al punto che inizia ad avere una conta dei morti questo divorzio tra Mark e Anna. e Mark decide di far saltare in aria l'appartamento. No, beh, aspetta. Vabbè, sì, è vero. Mark e Heinrich a un certo punto capiscono che Anna ha una terza vita. E tutti e due vogliono capire che roba è. Quando vedono che roba è, vanno fuori di testa tutti e due, completamente. Perché Anna... Che cosa Lovecraftiana, ogni volta che qualcuno vede come sono le cose realmente... Impazzisce. Cioè, scopre qualcosa in più che al di fuori della realtà di tutti i giorni vanno fuori di testa o muoiono. Mark assume addirittura un detective per scoprire dove è Anna e questo detective viene ucciso da Anna. È dato in pasto alla creatura cosmica con cui lei convive. Sì. E il detective che indaga sulla morte del detective muore a sua volta, allo stesso modo. Sì, il capo dell'azienda che paga lo stipendio dal detective privato. Sì, muore pure lui. E anche Heinrich sta per morire. Rischia di morire quando va a trovare Anna. Sì. Perché Heinrich riesce a scappare, però quando incontra Mark è Mark ad ucciderlo. Esatto. Perché Mark ha visto anche la stessa cosa ed è impazzito pure lui. C'è un altro personaggio nella storia che è l'amante di Mark. Perché Mark inizia una relazione con la maestra del suo piccolo figliolo Bob. Che è il doppio di Isabella Janie. Che è il doppio di Isabella Janie. È sempre interpretata di Isabella Janie, solo che Isabella Janie nei panni di Anna è sempre molto scapigliata, disordinata. Sì, è un rotame sostanzialmente, in varia della follia. Ed è sempre vestita di blu. Ha sempre vestiti diversi, anche se sempre hanno lo stesso vestito. Lei ha 85 vestiti blu. Invece Isabella Janie nei panni della maestra è sempre vestita di bianco, ha sempre una treccia ordinata. Perché il tema principale del film di Possession è la dualità. Il dissidio interiore, il contrasto tra la fede e il caos, come prima cosa. Sì, il completo abbandono al disfacimento di una morale etica. Sì, tra la tradizione e la retta via e la corruzione. Sì. Tra il seguire le regole della società e il seguire le proprie regole. Sì, esatto. E cosa volevo dire? Ah, che sì, che avevo iniziato a parlare della maestra perché, appunto, Mark inizia ad avere una relazione con lei, ma anche lui viene corrotto da questa possibilità di peccare, rappresentata dalla creatura tentacolare. Sì, esatto. E il film si conclude con Mark Mostro che va a prendere la maestra che è l'unica persona sana e pura di questa folle faccenda. Che comunque cede. E infatti il bambino che dovrebbe essere il... La purezza incarnata. Si uccide. Opta per il suicidio piuttosto di farsi prendere dal mostro alla porta. Esatto. E questo. Questa è la messa in scena. Sì, questa diciamo è la trama un po' riassunta. Questo è quello che vedi. Perché è una discesa nella follia non lenta in realtà, non è graduale. Fino a metà sì. Ma io non l'ho trovata così... Fino a metà non succede nulla. Per un'ora succede molto poco. Quando scatta la prima ora... Sfacelo. Eh, quando muore il detective. Sì, va tutto a rotoli. Una cosa allucinante. Proprio è una discesa negli inferi senza paracadute. Secondo me appunto a metà si raggiunge l'apice del film. Che è nella scena in cui noi siamo da soli con Anna. Che ci racconta a parole sue cosa è successo dentro di lei. Parole confuse perché nemmeno lei ne è veramente certa. Quando fa il suo monologo. Quando fa il suo monologo e guarda anche in camera. Che parla in camera, sì. Ha una pazzesca potenza quell'interpretazione. Soprattutto nella scena che è famosissima. In cui lei è nei sotterranei della metropolitana. E fa questa performance di danza interpretativa folle. In cui sembra rotta. Muove le braccia in una maniera stranissima. Il collo non so come ha fatto a non farsi venire il colpo della strega. Facendo quelle cose. Di frusto. Ah, la strega è della schiena. Tutte e due. A non farsi venire un colpo in generale. E la scena in cui lei partorisce. Boh, sì, espelle liquidi fluidi dappertutto. Sì, anche dai capelli le esce sangue e questa specie di latte. Che per un attimo mi ha un po' confusa come immagine. Perché per un po' ho pensato che fosse un film sulla droga. Sull'eroina in particolare. Perché Heinrich, tra l'altro, gliela porta l'eroina. Sì, è vero. E quando Mark lo uccide, in scena una morte per overdose. Da tossico. Lo fa morire un po' alla Renton. Sì, morte da tossico. Come la canzone di Creeple Bastards. Ah. Non volevo dire comunque che Renton muore. Mi riferivo alla scena in cui Renton entra nel bate. Nel gabinetto. E c'è tutto un mondo sotto. Sì. Bellissima scena. Tra l'altro quella robaccia che in teoria è schifosa era molto buona. Perché era tutta a base di cioccolato. E c'era un ottimo profumo sul set. Me lo auguro. Racconta Ewan McGregor. Bene. Mi fa piacere. Il punto è... Allora, ci sono tante cose strane in questo film. Ah, il film in sé è strano. Sì. Allora, già dall'inizio vedi che sono tutti strani. I dialoghi sono... Allora... Le conversazioni sono assurde. Noi abbiamo provato a guardarlo in inglese all'inizio così. Tanto non è la prima cosa che si guarda in inglese. Si mette il sottotitolo e dico... Sì, assolutamente in lingua originale te lo godi di più. No, era peggio. Eh sì. Era molto peggio perché le citavo in un modo strano. Sì. Ma probabilmente per far sì che il regista capisse. Sì, da quello che ho sentito, perché ho sentito anche la versione col commento del regista, Zulaski non parla né inglese né francese. O almeno non parlava né inglese né francese negli anni Ottanta. e lavorando con un attore anglofono e un'attrice francese, come cazzo comunicavo? Cioè, mi sembra proprio un ostacolo che ti metti da solo a lavorare con attori con cui non riesci veramente a lavorare. Dario Argento ha tante volte lavorato con attrici britanniche o americane e era comunicazione tramite gesti. E basta. Ho conuto Kier, mica parlava tedesco o Dario Argento. Mai parlato tedesco. E con Miguel Vossé. Miguel Vossé e parla anche italiano. Sì, sono un nome italiano. Parlava già italiano. Insomma, ci abbiamo provato. Abbiamo detto no, ok. La recitazione è stranissima. Sì. Veramente strana. Non è naturale. No. È tutto molto teatrale, esagerato. E le conversazioni a me la maggior parte del tempo hanno dato l'impressione di due persone che parlano nella stessa stanza ma non tra di loro. Ok, sì. Cioè, non sembrano veri dialoghi. Sembrano due persone che stanno facendo una conversazione. Cioè, due persone stanno conversando con altre due persone. Che non sono presenti. Ma due persone di queste quattro stanno parlando fra di loro mentre hanno conversazioni con altre due persone. È un frattale di conversazioni che non vanno da nessuna parte. Non so se mi è presente tipo quando stai parlando con una persona, arriva un altro e ti chiede qualcosa. Tu dici a una persona, sì, 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 questo cosa è venerdì, ok? Sì, sì, si diceva i panini, grazie. Cioè, capito? Una roba del genere. Sì. Ma il problema è che in italiano è peggio. Cioè, non peggio. Il doppiaggio... Il doppiaggio non aiuta. No. Non aiuta per niente perché a volte rende ridicolo il doppiaggio. Rende ridicolo quello che vedi. Sì. E in sé quello che vedi appare talmente assurdo che puoi ridere. Sì, è molto grottesco. Esatto. Cioè, i dialoghi non sembrano dialoghi di persone vere. No. O comunque di persone sane di mente. Ma in teoria all'inizio lo sono. Nei primi venti secondi. Sì. Poi basta. Tipo, quando è... Oddio, quando loro si riavvicinano, tra virgolette, quando lei ha quegli spasmi allucinanti. E quando lei sta preparando le salsicce ma poi prende il coltello automatico e si taglia la gola. No, intendo quella parte in cui lei ha degli spasmi allucinanti e è tornata lì e riordina la casa. Ah, sì. No? E mentre lei sta facendo quel discorsone allucinato, che per me non ha voluto dire nulla, perché io non vado... io ho voglia che mi dici le cose, chiare. E lui parla del suo cane. Sì, è vero. Del suo cane morto, che Dio era in quel cane morto. Cioè, c'è un disastro. È veramente un macello. Ma pochi discorsi hanno senso. Quando Mark e Heinrich parlano, i dialoghi raggiungono senso, ma quando c'è Anna, no mai. No. Inoltre c'è quel dettaglio che mi ha dato fastidio per tutto il film. Quale? La gente tocca. Sì. Toccano tutto. Soprattutto Heinrich ha il mal del tocco tantissimo. Tantissimo? Cosa tocca? Ma mica solo lui. Praticamente il capo del detective che va da Mark e gli parla, gli prende le mani. Non ci devi provare. Ma cosa tocchi? Anche Margie, l'amica di Anna. Sì. Ma lei ci prova subito. In che rapporti hai con Mark? Ci prova immediatamente con Mark. Cioè, lui spiega che lui e Margie non hanno neanche un buon rapporto. Sì, è vero. Quando le telefona le dice, guarda, io lo so che tu mi odi e io ricamo. E io non ti ho mai sopportata. Però quando si vedono si toccano. Sì, no, per me è inconcepibile. Non ho capito questa cosa. Io non tocco neanche la mia migliore amica. Vedi? Hai visto? Ieri sera. Ah, sì. La Veronica mi ha abbracciato. Mi sono irrigidito tutto perché il contatto umano. No, non importa se è il tuo compleanno e se l'ha festeggiata. Non me ne frega niente. Tonta stessa. Non mi piace. Vabbè, comunque. Ostia, lo sto capendo meglio sto film. Eh, analizzare i film aiuta a capirli meglio. Una cosa che ho pensato più volte durante il film, soprattutto durante le scene con Heinrich, è che fosse stato pensato più per il teatro che per il cinema. Può essere. Perché, vabbè, oltre al fatto della recitazione teatrale, che quella volendo ci sta anche bene in un film, ma proprio i movimenti dei personaggi gli uni attorno agli altri sono talmente innaturali. Sì, è vero. Da essere stonati in un contesto filmico. Perché ovviamente ci sono film che sono molto teatrali. Eh, sì. Però questo film non è teatrale. Mmh. Pur tuttavia contiene elementi tecnici del teatro. Ok. Cioè, Heinrich che parla e fa le giravolte. Sì, è allucinante. Perché? Perché lo fai? Non si sa. E soprattutto la scena che menzionavo prima di Isabella Gianni, che si contorce in metropolitana, quella a teatro, cioè ti ribalta sulla sedia, cioè lo senti proprio a livello fisico. Se un'attrice a pochi metri da te si muove in quel modo, respira in quel modo, urla in quel modo, ti può fare del male. Mmh. Invece, secondo me, attraverso lo schermo perde molto la sua potenza. Beh, sì, perché sono due medium completamente diversi. Comunque è assurdo, perché per me il film teatrale è tipo Wolfman. Prende Wolfman, quello con Benicio del Toro. Quello per me è un film teatrale. Mmh. Perché... Beh, sì, riprende i film della Hammer, con un po' di recitazione. Presente, ma anche i costumoni, cioè anche come recitano, per me è quello incredibilmente teatrale. Questo a me è sembrato solo strano. Sì. È perché, come si dice molto, molto spesso quando si parla di cinema, il cinema è sguardo. Ok. Tu stai guardando qualcosa che succede, tu sei un intruso nella storia di qualcun altro. Ok. Invece a teatro è più corporea come esperienza. Sì. Cioè tu non sei dentro quello che succede, come in un film. Cioè in un film tu puoi andare in mezzo ai personaggi che parlano, tu sei un po' come una mosca che può andare dove vuole. Ok. Dentro un film, invece a teatro no, perché non è che puoi salire sul palco come si faceva ai tempi di Shakespeare. Poi vedi i tuoi amici e li saluti. E c'è Amleto lì che dice essere o non essere, tu Marco! Marco! Bellissimo. Non so se mi stai seguendo. Sì, sì, sì. Essendo Possession una storia che parla di non capirsi e cercare di esplorare la propria interiorità e venire a patti con tutto l'orrore che c'è lì dentro. È un'esperienza talmente intima che tu non ci puoi entrare, tu in quanto spettatore. Nonostante... È un film che ti respinge tantissimo. Nonostante il discorso che facevi prima, tu sei un intruso tra la gente, questo film in realtà, cioè tu molesti proprio le persone perché l'inquadratura ti entra proprio... Quando Isabella Gianni fa il monologone allucinato, guardando in camera sempre. Quindi l'attacca in fronte la cinepresa. Sì. Quindi sì, è invasivo da bestia, ma comunque è... Ma allo stesso tempo è repellente. Sì. Cioè lei ti parla, ti sta parlando, ma ti sta raccontando un'esperienza talmente particolare... Che non è la tua, non lo sai. Che non è la tua e probabilmente non lo sarà mai. O almeno non per me, visto che è un film che parla molto di religione e io non sono mai stata religiosa. Non ho mai avuto una crisi di fede come quella che ha Anna. Il fatto che lei stia cercando di raccontarmi cosa si prova ad avere una crisi mistica, mi fa un po' muro di gomma, no? Sì, sì, sì. Perché mi stai tirando addosso una cosa che su di me rimbalza. Sì, mi fa resistenza. Perché non... Io faccio resistenza. Tu fai resistenza. Non è che fai resistenza. Non riesco ad avere un contatto con lei. Sì, esatto. E' come se qualcuno viene da te, da te Anna Isse, e ti dice, hai visto il Milan che bravi hanno fatto quattro gol, bravissimi. Ah, va bene. Football is life. Ci credo, ci credo. Ma io non metto in dubbio. Non dubbio. No, 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 no. Forza Milan, campione. Sì, sì. Si dice forza, non lo so. Ma che è? Complimenti, tanti auguri, non lo so. Ed è... Avvilente, secondo me. È avvilente, perché qui poi si entra in ballo, per me, un altro discorso. Vai. La soggettività dell'opera d'arte. Allora, l'opera d'arte... Io non metto in dubbio che Possession sia una gran roba. È sicuramente un film particolare. Perché io di film non capisco niente. Assolutamente niente. Tant'è che l'altro giorno mi hai detto, ah, sì, hai usato bene il termine messa in scena. Ah, sì. Sì, è vero, l'hai usato bene. Benissimo. E tra l'altro la messa in scena è molto bella. Sì, a me piace bene. Perché anche il... Gli appartamenti... Gli appartamenti sono marci, però non sono... Allora, non è il marcio come quello di transporting, che mi fa schifo. Beh, sì, quello è proprio il degrado. È il marcio malandato questo. Quello proprio... Sì, è quello dei... Non è dei tossici. È quello dei reietti. Vivo in questa casa, ma non me ne frega un cazzo, posso andarmene anche tra due minuti. Non è veramente casa mia. È solo in un posto in cui sto. Quindi anche se casca a pezzi, poco importa. Sì, è solo il posto in cui copulo con... Con le creature... Sì. Comunque, anche la creatura è molto bella, anche se è molto indefinita. Sì, è vero. Però come ci insegna Lovecraft, la definizione non è di casa. No. Questo diceva Lovecraft, che le sue creature, esattamente come quello che c'è lì, è talmente astruso che non... È per quello che diventano pazzi. Perché non lo può dire. Come anche Heinrich, come Mark, è una roba completamente strana, non riesce a capire, non sa cos'è. Il solo fatto di averla vista lo fa andare fuori di testa. Sì. Sì, come le montagne della follia, l'abbiamo visto più volte in Lovecraft. Sì, sì, assolutamente. Uh, a proposito, abbiamo visto quest'estate Call of Cthulhu, che è un mediometraggio, dura 40 minuti, è in bianco e nero, è in stile film degli anni venti. Ed è veramente molto, molto bello. È fantastico. È consigliatissimo. Sì, con Tulu in stop motion. Ma è bello da besta. Che è un... Fatto proprio col pupazzetto. È un plastilillone. Plastilillone. Sì, incredibile. Ma è bellissimo. Sì. Ma... Marco Giuda, non mi ricordo cosa diceva. Perdonami. Ah, dicevi che non capisci niente di film. Ecco, allora, ecco. Sì, 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 perfetto. Quando... Ecco, dicevo che io non metto in dubbio che questo film sia una roba incredibile, sicuramente. C'è gente che capisce più di me di cinema che magari mi dice... Fidati. Sì, lo è. È effettivamente un caposaldo nel suo piccolo... Cioè, nel suo genere... Nel suo genere. Nel suo genere è un capostipite. Quindi, sì, lascia stare. Lo è. Lo è. E questo è un discorso che a me stona sempre. Perché effettivamente anche io quando parlo di musica ti dico questo disco è un capolavoro. È vero che io abuso di questa parola, però se, che ne so, ti dovessi dire un disco tipo Dark Side of the Moon... Ok. È un capolavoro. È un capolavoro. Effettivo. Ma arriva qualcuno che di Pink Floyd non sa nulla e di musica sa veramente poco, tanto che il suo unico rapporto con la musica è accendere la radio per andare a lavoro. Sì. Sì, magari ti sente... Lo ascolta e si rompe i coglioni. Probabile, sì. E lo capirei sotto un certo punto di vista. Perché se tu sei una persona abituata ad ascoltare musica da radio, ti ascolti tutto Dark Side of the Moon, ti annoi. Probabile, sì. Ti annoi parecchio. E lo stesso discorso di coso... Io so benissimo che valore a Master of Puppets, che ti dicevo anche ieri sera, però... E tu mi dicevi... E qui entra in ballo anche il discorso di che cos'è il capolavoro. Perché tu dici il capolavoro è la roba fatta bene? No. No, assolutamente no. Perché Master of Puppets, sul lato sonoro, a livello di qualità proprio produttiva, fa schifo. Le chitarre sono zanzarose, completamente privo di corpo il suono in quel disco. C'è una scelta di suoni... Why? Confundente. Non so per quale scelta è stata fatta. Cosa che Dark Side of the Moon, se non sbaglio, è precedente. Sì. E ha dei suoni pazzeschi. Eh sì. Però se tu non sei dentro a quella roba lì... Non te ne accorgi. Non te ne accorgi, uno. Però ecco, anche Dark Side of the Moon ha quella cosa che se tu non lo sai, ti rompe le balle. Dark Side of the Moon. Sì. E quindi, cioè, allora, il capolavoro è un termine un po' così. Cioè, tu, è un capolavoro se ci capisci qualcosa. Inutile che tu mi dici, è un capolavoro. Eh, e poi? Ok, sono d'accordo. Tutti mi dicono, ah, la finale del 1900, Bossa, una sega, Germania, Ungheria. Capolavoro. Quella partita lì, porco Giuda. Eh, boh, non lo so. Io, tra l'altro, mi ricordo che quando giocavo al Nintendo 64, a World Cup 98, sbloccavi le partite storiche, le finali. Boh. Sì, ok, ma cos'ha di così incredibile? Cioè, non so. Quindi il capolavoro, secondo me, è... Il discorso capolavoro ha un suo... Sì, è per gli addetti ai lavori. Esatto, secondo me. Secondo me sì e no. Secondo me ci sono dei lavori considerati capolavori. Ok. Dai tecnici, proprio dagli addetti al settore, dai critici d'arte, critici di cinema, critici della musica. Sì, sì. Ci sono gli esperti che ti dicono, Dax Edo Demune è un capolavoro, la pietà di Michelangelo è un capolavoro, quarto potere di Orson Welles è un capolavoro. Nel momento in cui una persona esperta ti dice che un'opera che tu magari non conosci è un capolavoro e ti incuriosisce, tu puoi andare a leggerti delle analisi, ad ascoltare il pezzo, a vedere il film e vedere cosa puoi fare tu con i tuoi mezzi. Poi magari ti avvali del lavoro dei tecnici e approfondisci lo studio, elabori sopra perché questo è considerato un capolavoro e magari puoi essere d'accordo oppure no, per tuo gusto. Magari puoi dire, che ne so, Dark Side of the Moon, o magari parliamo di quarto potere, visto che è un podcast di cinema. Sì, sì, scusa, io ho usato il mio settore. Sì, sì, per carità. Magari uso un film che hai visto. Sì, prego. Babe. Babe. Allora, Babe è un capolavoro del cinema per bambini. Sì, esatto. Ok. Perché è un film che è fatto bene a livello tecnico, ha dei buoni effetti speciali, è un film degli anni 90, ma spacca, è fatto molto bene. Sì. È recitato bene, ha una fotografia ben fatta, trasmette un messaggio positivo. Molto. Ed è gradevole a livello di consumo, cioè tu lo vedi e ti diverti. È fruibile, sì. È fruibile, è un capolavoro del cinema per l'infanzia. Sì. Magari un tizio che si guarda solo film rossi degli anni 20, ti dice, ok, io lo trovo indecente. Sì, ok. Perché quello è il momento in cui alla tecnica subentra il gusto personale. Sì. Cioè, come dire. Quella già è una questione di esperienza. Sì, cioè una persona che ha visto tre film e ti guarda Possession può avere due reazioni completamente opposte. Può dire, oh mio Dio, la mia vita adesso è tutt'altra cosa, voglio vedere solo film polacchi con i sottotitoli, eh. Oppure, che è sta merda. Sì, esatto. Sì, dopo ovviamente viene fuori il oddio. Ti ricordi quando Martin Scorsese se ne è venuto fuori i film della Marvel non sono cinema? Sì, lo continuo a dire. Perché probabilmente il nipote ce l'aveva, ce l'aveva, ce l'aveva il nipote a carico, il suo fratello, il suo sorella gli è andato, mi tieni il nipote, me lo porti al parco o qualcosa. Nessun problema. Lo porterò al cinema. Sì, magari dice, andiamo al cinema, nipote? Sì, cosa andiamo a vedere? No, anzi il nipote dice, andiamo a vedere un film. Spiderman. No, andiamo a vedere un film. Scorsese ha la valigetta con i suoi film sulla macchia. Guardiamo Scarface. Guarda, ho tutti questi. Gli fa, no, voglio guardare Avengers. Cos'è? Che cos'è? Andiamo a vederlo così lo vedi? Zio lo vede e poi va su Twitter a dire la Marvel fa cagare. Non sono cinema. Tant'è che Sean Gunn, all'epoca era ancora nella Marvel, disse, non abbiamo mai preteso di fare cinema. Comunque scusa, maestro. C'è capito la buttata anche sul... Sì, anche meno, prof. Esatto. In ogni caso, quanto è sottile la linea di demarcazione che separa un lavoro veramente fatto con l'intenzione di mettere in scena una cosa complessa e magari anche personale, forse, e mettere giù anche un argomento, anche difficile, che magari può far riflettere, dalla presa in giro. Secondo me questo film non è una presa in giro. Cioè, non è una supercazzola. Non voglio dire che sia una supercazzola, ma una cosa proprio fatta apposta per farti bestemmiare quando guardi una roba. Allora, sicuramente ci sono film così. E ci sono, ci sono, a voglia. Ci sono. Ce ne sono veramente appacchi. Per dire, favolacce. Io l'ho detestato. Per me è una supercazzola. Ok. Qui lo dico e non lo nego, io trovo che i fratelli, come cazzo si chiamano? Non lo ricordo. Sono dei supercazzolari. Perché hanno pensato, ok, cos'è che fa colpo? La corruzione dell'innocenza. Ok, allora parliamo di bambini che ammazzano le persone. Ok, ci mettiamo il mio germano, così la gente dice, ah vabbè, c'è il mio germano, allora è a posto. Hanno il CEO of approval del Festival del Cinema di Venezia e ti fanno questo film cupo in cui tutti sono brutti e cattivi. E i bambini vengono corrotti immediatamente, cioè mettono piede fuori dalla porta e li tirano addosso il sesso. Rimettono piede. Ma c'è un bambino che costruisce una bomba che mi dice, oh Gesù Cristo. Rimettono piede dentro casa e ci sono i genitori che gli buttano addosso violenza. Voi dovete competere, figli brutti, non avete preso dieci sulla pagella, vi brucio. Vi brucio la mamma. E la mamma tipo, oh, guarda che sono qua. Zitta tu, zitta. Devo rimetterti in riga. Colpa tua. Ecco, The Lady. Bellissimo. Bellissimo. Capolato. Sto scherzando. Cioè, The Lady è un ottimo, vabbè, invece di usare favolacce, The Lady è una serie che prova ad essere seria, che prova a parlarti del mondo della moda, del mondo del jet set. Guarda che c'è gente, ci sono imprenditori e imprenditrici che dicono, cavolo, The Lady è la mia vita, è vero. Io tutto quello che ho visto in The Lady l'ho visto con gli occhi miei durante la mia carriera. E io dico, porca miseria, mi dispiace perché che schifo, The Lady. Però, ecco, l'Ori del Santo ha cercato di fare una cosa molto seria, ci ha messo proprio tutta l'intenzione del mondo quella donna. Sì, sì, ha sfruttato movie maker in una maniera, l'ha proprio bruciato quel programma. E cosa è venuto fuori? Una merda. Sì, totale. Merda, perché è un argomento molto serio nelle mani di una persona che non ha né le competenze tecniche, né la sensibilità artistica per fare una vera opera d'arte. Seria, sì. Zulaski, io non metto in dubbio che abbia le competenze tecniche perché ha dei movimenti di macchina che sono, mamma mia, degli splendidi diamanti. Ok. Io guardavo i movimenti di macchina e dicevo, wow. Sì, sono belli, sono personali. Sono molto particolari, sono delle ossessive spirali attorno ai personaggi, usa molto il movimento circolare, che è particolare, non è facile da usare. Nel cinema solitamente lo usano per le scene di danza. Sì, che ha perfettamente senso. E invece Zulaski lo usa in questo modo che ti fa capire che c'è della vertigine, che c'è della confusione, che c'è del disorientamento attorno e dentro questi personaggi. Sì, beh, sono quelle cose, sono quegli accorgimenti un po' all'argento, cioè il regista vuole che tu veda come vede lui la scena. Sì, il lavoro del regista è esattamente questo. Cioè, nel senso, lui ti porta nella sua visione del film. Hai presente, l'abbiamo visto da poco, The Fable Man. Ok. Quando lui alla fine fa vedere il filmino della giornata di giochi con i compagni di scuola, fa apparire, più bello di tutti, un dio dorato, il suo bullo. Un ragazzo che è uno stronzo. È cattivo, non è una brava persona, ma lui la fa apparire stupenda. E quando il bullo gli dice perché l'hai fatto, lui risponde non lo so. Perché c'è un momento in cui, quando ti piace fare cinema, come quando ti piace fare musica, o quando ti piace scrivere, c'è un momento in cui quello che stai facendo non lo stai più facendo tu. È la cosa che sta usando te per essere fatta. Ma conosco questa cosa. Io quando scrivo pezzi, cioè, c'è qualcuno che mi chiede, come fai a comporre i pezzi? Gente che conosco, tipo, quelli che conosciamo noi, che di base fanno cover. Boh, il pezzo va da solo. Esce, sì. Il pezzo, cioè, io gli do l'input, poi cresce da solo. Lo faccio io, ma è il pezzo stesso a dirmi come crescere. Sì. Non lo sto facendo io. Ed è bello quando un'opera d'arte ti trasporta. Sì, sì. Cioè, un'opera d'arte non per forza, un capolavoro. Opera d'arte nel senso, lavoro artistico. Sì, sì. Nel senso che non stai costruendo un mattone. Costruendo un mattone. Espressione artistica, sì. Cioè, quando stai costruendo un mobile, devi seguire le istruzioni, perché se non le segui, viene giù. Viene storto. E se metti un libro su uno scaffale che non è fatto bene, casca. Sì. Invece una canzone, magari, sì, ci sono delle, tra virgolette, regole da seguire, però è divertente quando magari le sfrutti in modo diverso, o vai fuori, cambi tempi, giochi con le velocità. Sì, che sono tutte piccole cose da saper usare. Sì. Puoi giocarci quando le conosci. Esatto. Se non le conosci, è meglio che fai un quattro quarti. Sì, esatto. Tipo, tu puoi decidere di non stare nelle tonalità, di non seguire le scale, ma dopo che le conosci. Stessa cosa da per... Per uscire dove uscire, tipo se sei sulla tonalità di La minore, tu puoi andare nella tonalità del Sol, ma non sempre e non in tutte le note, comprese nella tonalità di Sol. Lo devi saper fare. E lo senti quando hai una certa sensibilità artistica, lo senti qual è la nota che funziona e quale non funziona. Lo sai perché l'hai imparato. Sì, sì, ma lo impari con l'esperienza. Sì, sì, assolutamente. O perché ti hanno insegnato, per esempio. Eh, vabbè, esperienza. L'esperienza può anche venire da un maestro. Ah, sì, sì, per carità. Sì, sì. E la stessa cosa vale per il cinema. Cioè, quando tu prepari un'inquadratura, lo vedi se c'è la luce che funziona o che non funziona, se gli attori sono troppo vicini o troppo lontani. Però lo vedi se hai l'occhio sensibile e o preparato. Cioè, non siamo tutti prodigi. No, assolutamente no. Ci sono delle menti eccelse in ogni ambito. Ci sono musicisti incredibili, registi incredibili, scrittori incredibili, che nemmeno loro riescono a dirti come ci riescono. Ci riescono e basta. Lo fanno. Ci sono quelli che studiano tantissimo e sanno che una cosa funziona perché sì. Sì. È sempre come il finale di Fableman e mi è rimasto molto impresso con John Ford che dice se l'orizzonte è in alto va bene, se l'orizzonte è in alto va bene, no. In basso e in alto va bene, in mezzo no. In mezzo no, è una merda. Perché è un regista che ha fatto 80 film straordinari, quindi se lui ti dice così funziona, così funziona, così no, forse ha ragione. E Zulansky ha delle capacità innegabili. Ah, per carità. Però vedi? Qui io ti dico, beh, non metto in dubbio. Non metto in dubbio. Perché io non conosco il cinema in realtà. Però, ecco, per dire, l'inquadratura dall'alto di Isabella Janie che sorride e ti guarda dal basso è inquietante. Molto sì. Inquadrata da davanti non lo sarebbe, sarebbe solo una tizia strabica. Sì. È inquietante perché tu la guardi dall'alto e lei ti guarda dal basso e sembra che ti stia per mordere alla gola. Sì, sì. Quella è una buona fotografia. Ma una cosa fatta benissimo può comunque non piacere. A voglia. Cioè, se tu mi prepari la più buona salsa all'aglio dell'universo e io la lecco, poi vomito. Ma tu, tu sì, tu mori. Io personalmente, cioè, per fare l'esempio del cibo che tutti colgono. Sì. Ho usato l'esempio dell'aglio perché a me piace più o meno. Se tu mi prepari l'orata più incredibile, proprio viene il miglior chef del mondo e mi prepara la zuppa di pesce, io l'annuso e dico, no, grazie, passo. Preferisco di no, sì, esatto. Cioè, Possession, alla fine della fiera, non ci è piaciuto come film? No. Non l'ho trovato interessante e coinvolgente perché a me, personalmente, il tema della fede, contraposto al caos, il tema della tradizione, contraposto alla sovversione, non mi tange. Ha senso. Quindi proprio a livello di mia sensibilità non mi tocca. Il tipo di recitazione, secondo me, non funziona bene nel film, funzionerebbe molto meglio a teatro, per quella cosa che ti dicevo del contatto, cioè il cinema è un contatto visivo, il teatro è un contatto fisico e questo film è molto fisico, cioè parla proprio di corpi, di perdere e riprendere il possesso del proprio corpo. Anche, può essere un'interpretazione. Essere un film che si presta a molte interpretazioni è un plus, è un bonus. Per me no. Per te no. Io il, come ti dicevo, capiscitelo tu. No, assolutamente no, perché altrimenti mi guardavo beautiful. Capiscitelo da te. Io voglio una storia che... E perché mi sta sulle balle il trono di spade? Ma chi è il cattivo? Ci sono molti cattivi. Che tipo? Geoffrey Baratheon è una merda. Sì. Cersei è una bella stronza. Sì, anche Jamie. Jamie è un puraccio. È un pezzo di merda totale. È un pagliaccio. Azzoppa un bambino. Sì. Ok. Ma poi gli tagliano una mano, quindi... Ma è azzoppato un bambino. Basta, sei una merda. Punto. Chi è l'altra merda? Sai chi è che mi stava simpatico? Dito Corto. Ma che? Bron, quello che sta col... Traditore bastardo pezzo di merda. Grandissimo. No, no. Non hai combattuto con lealtà. Lui sì. Sono un mercenario. Io no, lui sì. Quello morto. Fantastico lui. E poi, anche io all'inizio volevo bene a Bron, però poi cambia via. Ma lui mi sta simpatico per simpatia. Però di base, quando muore Ned, boh, non me ne frega più niente di nessuno. Ti piaceva me? Sono tutte facce di merda. Sì, tutti. La rossa, la figlia di Ned. Sansa. Che odio. È il mio personaggio preferito. È il vasetto di odio da cui attingi sempre. Tu non hai visto una stagione e mezza di Game of Thrones. Che può bastare. Sansa migliora molto. Perché racconta barzellette. No. È un po' la rossella O'Hara di... Domani è un altro giorno. Muoiono ancora. E moriremo di più. Altri personaggi. Ancora ancora. Ma comunque, io voglio Sauron. Il bene e il male. Voglio Frodo. Non voglio dover capire o decidere da che parte sto. E questo è il problema. E qui si ricollega quel discorso che ti facevo prima sulla supercazzola. A me pare a volte certi film. E questo a me dà l'idea di essere uno di quei film che non l'hai capito. Tu non capisci niente. Tu non ci hai capito una sega. È come quell'altro lì. Che peraltro è Under the Skin. L'hai mai visto? Ah, quello di Banderas. No. Scarlett Johansson. Lei è un alieno. E divora persone. Ah. Come le divora? Non si sa. Quando lo fa è in un'altra dimensione assurda. Cioè, succede solo questo. Mi stavo confrontando con la pelle che abiti. Ah, sì. È una cosa del genere. Ok. Qual è la trama? Boh. Qual è la storia che racconta? Boh. Ma è un capolavoro. Perché ci sono dei peni eretti. È incredibile. Non è una roba così. È coraggioso sto film. Non hanno visto Spartacus. Curioso. Sono tutti peni. Curioso. Perché ogni volta che c'è un film con dei peni eretti, capolavoro. Eh, perché non è così comune la rappresentazione. E allora leggi, dai gli Oscar al porno. Lo fanno. No, gli Oscar, non la VN. Gli Oscar. Oscar, Oscar. Categoria porno. Sì. Mi manca solo quella, tra l'altro. Fanno una coppa Volpi per le attrici porno. Fanno un premio a camp. Un debito di Donatello per i peni. Sì. Non che, ah, c'è un peni eretto. Eh, beh. Questo è un filmone. È un filmone coraggioso. No, è un film di cui non si capisce niente. Basta. Per dire, l'altro giorno ho visto La Maleducazione di Almodovar. Sì. È un film molto complicato. Perché si muove su tre livelli narrativi. C'è un film, nel film tratto da un libro. Ok. E i personaggi sono interpretati dagli stessi attori tre volte. È un po' un casino, ci devi stare molto attento. Ma è un film meraviglioso. Cioè, quanto mi è piaciuto da morire La Maleducazione. Vabbè, mi piacciono un po' tutti, mi finiamo dov'è. Però questo, secondo me, è il suo migliore. Pazzesco. Devi stare molto attento, seguire bene. E può confondere, però, se capisci, lo apprezzi. Possession, stessa cosa. Va analizzato, sviscerato. Ieri abbiamo letto anche una bellissima analisi del significato. Sicuro? A me sembrava un po'... Non so per cazzo. Un po' saccentona. Sì, era un po' saccentona. Io ho capito. Un pochino, sì. Però, se l'ha capito e cerca di trasmettere la sua comprensione... Vabbà, affanculo. Vabbò, Giuda. Il mio discorso è... Sì. Ti ricordi Predestination? Sì. Guardalo. Stupendo. A te ti piace. Non l'hai visto fino alla fine. Roba tua. Questa è roba tua proprio. Ne ho visto un'ora. Vabbà, vabbà. Ma perché devi arrivare fino alla fine per capire chi è lei? Ma lui è se stesso che mette incinta il se stesso della quarta volta e poi lui è femmina ma in realtà è il passato di lui che ha messo una bomba alle poste. Ma basta, dai. Io mi devo cervellare a guardare una cosa. Mi guardo i Dragon Ball. Basta. Perché qui entra il discorso del degustibus. No. Io volevo riprendere il discorso che ti facevo ieri sul capolavoro. Prego. Che ti avevo fatto l'esempio della pietà di Michelangelo. Ok. Perché Michelangelo è uno dei più grandi scultori dell'umanità. È riconosciuto da praticamente tutti i critici dell'arte che è bravissimo. Se tu vedi la pietà di Michelangelo anche se non sai la Bibbia, se non conosci la storia di Gesù, vedi una figura femminile con in braccio un moribondo e pur non sapendo cosa c'è dietro, interpretando le loro espressioni, la loro posizione, riesci a capire che c'è una storia. Cioè magari sai che lei è sua mamma, magari puoi pensare che è sua moglie, sua sorella o una passante che ha trovato un morto, però capisci che c'è del dolore. Sì. In quel contesto. Sì. Perché Michelangelo con le sue capacità tecniche è riuscito a prendere un pezzo di marmo e a trasformarlo in due figure umane che tu puoi riconoscere. Vedi l'espressione, vedi la tristezza e lo riconosci perché è un'emozione, magari non l'hai provata con la stessa intensità, però il lutto, bene o male, è una cosa che abbiamo vissuto. Certo, certamente. Quindi secondo me il capolavoro può essere un termine utilizzabile in questo contesto, per questa opera d'arte si può dire che è un capolavoro, perché è fatto bene a livello tecnico e trasmette delle emozioni universali. Per me non si può dire capolavoro di possession, perché parla di qualcosa di talmente particolare, di talmente intimo, talmente personale. Non lo capiscono tutti. Esatto, da essere quasi astruso, ermetico. Sì, esatto, ermetico è la parola giusta. E secondo me se una cosa è ermetica, non può essere considerato un capolavoro perché essere ermetico ti impedisce di essere universale e il capolavoro deve essere universale. Sì, esatto. Poi ovvio, tu puoi vedere la pietà e dire il mio falegname per 30.000 lire me lo faceva meglio, però poi mi devi presentare il tuo marmista perché porca puttana dimmi chi è e fa dei prezzi buoni, quindi lo assumo. Sì, sì, esatto. Per fare un esempio stupido, tu puoi vedere Guernica e dire quel cavallo lo disegnavo meglio io. Fa schifo. Assolutamente sì. Fa veramente cagare come disegnato quel cavallo. È brutto. È brutto. È un aborto quello della mente di un pazzo. Però Guernica rappresenta un fatto storico e se tu non conosci quell'evento e vedi questa roba grigia, bianca, nera e dici è tutto storto, non si capisce chi è sta gente che urla e può risultarti indifferente. Cioè devi avere una conoscenza di base che ti permetta di capire cosa stai guardando. Poi magari se hai un altro tipo di sensibilità e vedi queste figure contorte e urlanti può trasmetterti angoscia. Puoi non trovarlo bello esteticamente ma puoi capire di cosa parla anche senza sapere del bombardamento eccetera. Dici queste sono creature che hanno paura. Lo vedi perché Picasso può piacerti o non piacerti però trasmette emozioni. Non in tutti i lavori però in Guernica ho usato Guernica per un motivo. Sì sì sì. Perché vedi la gente che urla tu nella tua vita hai urlato quindi capisci paura. Io la vedo solo quadrata in quel quadro la gente. Anche il cavallo che ho detto è mai nella realtà quel cavallo. Comunque. Fatto sta che Possession non ci è entrato dentro. E noi non siamo entrati dentro Possession. No assolutamente. Sono contenta di averlo visto perché è un film importante. È un film che piace a tantissima gente. È un horror con l'H maiuscol. No non è vero. Io non penso che sia un horror. Parla di una cosa orribile ma non rispetta nessuno dei canoni dell'horror. Non ha neanche un jumpscare. Io l'ho voluto vedere perché... Perché c'è Isabella Gianni nuda più volte. È vero. Ha un seno splendido. No ma perché era tra i must dei film cosmic horror. Lo devo vedere. Io sono amante di Lovecraft. Giustamente lo devo vedere. La cosa è un'altra cosa. Così sì assolutamente. La cosa come il vuoto. Sì. Anche quell'altro lì. In the mouth of madness. Che è proprio Lovecraft. E questo è il problema. Niente. Non ci siamo... No non mi ha preso. Mi spiace. Hanno provato a vendercelo ma non l'abbiamo comprata. No assolutamente no. Vuoi tirare tu la roulette? Perché ce l'hai qui? Sì è sotto il letto. Non l'ho preparata. Però ci mettiamo a poco. Così scegliamo quale episodio... Quale film vedere per il primo episodio. Da davanti. Ah no è qua. Che scema. L'ho spostata. È anche alla rovescia. Porca paletta. Ups. Ups. No perché due? Non lo saprò. Mi fai scegliere? Beh sono tutte e due sul rosso. Ah ok. Rosso vuol dire rewatch. Ok. Uno è... Niente. Uno si è spostato. Quindi 32 rosso. Il 32 rosso abbiamo... Abbiamo... Le streghe. Le streghe. Un rewatch. The witch. The witch. Sì. Ah sì. Ha giudicato. Ha giudicato tantissimo. Oppure la morte ti fa bella. Non direi di no. Lì la streghe Isabella Rossellini. Ah sì? Non me lo ricordavo. Ed è mezza nuda. È vestita di diamante. Eeeh. Sì. No no però The witch. Sì sì ovvio. Non c'è storia. Nel prossimo episodio. Roulette. Guarderemo The witch. The witch. Di Robert Eggers. Lo devi... Te lo dicevo in DVD. Bravo. Te lo guardiamo. Sì. Basta. Questo è l'ultimo episodio del 2022. Sì. Ho già preparato l'episodio sulle migliori serie del 2022 e sui migliori film avrò visti nel 2022. Quindi ci risentiamo molto molto presto. Buon anno. Buona fine. Buon inizio. A te e famiglia. Se ti sta simpatica la tua famiglia. Se no va a fanculo la tua famiglia. Esatto. Auguri a te e alle persone a cui vi bene. E detto questo ti saluto con il nostro solito augurio. Che la fortuna stia dalla tua parte e che la roulette giri sempre a tuo favore. Ciao. 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 Ciao.